nono noni, hai regalo di mancale? ciao, andiamo a vedere mamma, mamma, dove è il nonno? ma non lo so, ma lo vede che sta pulendo il bagno insomma, questa stanza è piena di germi, è piena di germi ragazzi, lavatemi le mani, subito! mamma, 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 mamma. Zio, hai visto il nonno? Ah, è giù di sotto, giù di sotto. Spero spiegati ad andare in un esempio, è una cosa molto importante. Zio, hai visto il nonno? Eh, boh! Zio, hai visto il nonno? Dov'è? No, non ho mai detto. No, no! Non si deve anderni a fare? Dottoressa, non we gotta fare, ma se siamo adappetiti.